Allè! 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 Non si ascolta! Si legge! Dovete leggere! Non ascoltare! Lì in fondo ci sono libri, ma li abbiamo sempre intesa chi non comprende oggi lo fa sempre bene. Che cos'è questo libro? Ha fatto una specie di fotografia da quello che noi siamo in questo momento. Che cosa si legge? Le storie di grande persone che conoscevano. Storie di gente che non vuole stare rassegnata ma che vuole potersi. Non è il libro che parla di libri, ma da due persone ma parla di tali persone. Questo siamo fatti alla sanità. Ognuno ha il suo posto da tutto quello che può perché non va da me. Questo è il nostro progettivo. Io ve lo consiglio per l'estate. Seconda cosa. Ci salutiamo questa sera perché è un'occasione che viene un po' lunguale. La casa dei cristallini, il piano, l'orchestra, è il nostro progettivo. Tutti ci siamo incontrati. Per dirci, non lo caldo, non lo caldo, non lo caldo. Ma sappiamo l'intenzione di attraversare i galantici perché ci siamo incontrati. Tutte le loro progettive. E adesso, prima delle persone, si aiuta la vicenda, si sono passati. In queste parti. Grazie. 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 Grazie.